non lo so no era un professionista dai vai ma chi sono loro no no come si chiamano e lui si chiama otto volante e io delgardo buonasera siamo all'orelai per il sociale e sono con otto pomi non mi verrà mai in mente chi sono prossimamente i freddissimi segreti di saletta buonasera siamo all'orelai per il sociale sono qua con due importanti opinionisti di misterio buonasera vi presentiamo il nuovo speciale buonasera ritorneremo a con sonno ad approfondire nuovi misteri con i nostri carissimi esperti siamo riduci da una bellissima visita sull'oltrepo sull'oltrepo eh ti raccomando ritorno a con sonno un mondo di emozioni vi aspetta a settembre un mondo di emozioni ritorno a con sonno ritorneremo a con sonno in ottobre a novembre a novembre imbulti dobbiamo dire altre cose hai in mente qualcosa abbiamo qui a introdurre questa nuova puntata a delgardo adone professore dottore mi dica altro tutto grazie grazie grazie